buongiorno e tanti auguri amorine mie buona festa delle donne oggi amici io vado aspetta un secondo che vanessa si sveglia per bene auguri vane prego e sonno oggi è un grandissimo giorno per te perché sarà il tuo primo giorno in cui proverai a fare nuoto e con chi va in piscina sei contenta la tua migliore amica una delle tue migliori amiche quindi adesso portiamo vanessa a scuola anzi siamo già fuori dalla sua scuola perché abbiamo portato daniele siamo in super anticipo aspettiamo che la scuola di vanessa apre dove andiamo noi a comprare cartone andiamo a comprare tutto l'occorrente che serve per portarti in piscina oggi ok ci vediamo dopo lì ciao ciao dobbiamo andare a comprare il costume non in discoteca la smetti di truccarti che hai solo cinque anni no cani andiamo allora che stai per prendere il volo e leggermente al contrario scurbetta e questo cerchietto dove l'abbiamo comprato ai mercatini e l'altro ieri ho finito ieri o l'altro ieri l'altro ieri dai metti bene il giubbotto che andiamo guardate guardate come si mette un giubbotto tutorial per come si indossa un giubbotto e voilà ma credo che l'abbiano capito sai secondo me gliel'abbiamo già detto però poi al massimo io ripetiamo più tardi poi facciamo vedere il costume anche ragazzi poi vi faccio vedere chi è la mia amica giulia in faccia certo assolutamente sì non vediamo l'ora noi siamo uguali di alta di altezza di altezza penso se abbiamo anche le cuffie uguali penso a te lei ha detto che ha le ciabatte viola viola e va bene le vuoi cercare viola quindi sì va bene ci vediamo dopo ci sono dei costume bellissimi ok allora non ve lo dico che colori sono vi vedete dopo ciao anzi no ciao guardate guardate so far un ballo mamma mia un ballo proprio tranquillo tranquillo guarda che cadi dalle scale mi sembrava giusto grande grandissima tu finirei alle olimpiadi io lo so già anche da qui e questo era difficile faccio io vai ti aspetto grazie grazie ciao mi sento in macchina mamma è chiusa la macchina no è aperta no è aperta non hai forza perché non mangi niente ho capito vai dai ecco legati leghi da sola no dai ok a meno che la volta vi faccio vedere vediamo eh guarda che il 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 gancio è lì lo so che lo so a vedere eccoci di nuovo alle prese con Anastasia che disperatamente cerca di agganciarsi all'auto non ce la fai sì che ce la fai dai dai non ce l'ho fatta sei agganciato? sì sicura? sì metti bene le le cinture che sono tutte storte no no le cinture ce le hai addosso sicura che sei agganciata? sì abbiamo sentito il rumore eh l'hai sganciato? no 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 madonna mia che imbranata vabbè 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 sì sì brava brava urba Cicciola siamo arrivati alla Decathlon wow gigante mi sono andata al rossetto con la lingua così che schifo dai andiamo a scegliere quello che ci serve non fa neanche un moto non fa neanche un moto ti ricordi tutto quello che ci serve? le ciabatte sì il cotone sì la suga mano sì la cuffia ah la cuffia sì e un'altra sacchetta brava andiamo un gara quella però di qua amo? ah vuoi i pattini i pattini? ma noi non dobbiamo andare a pattinare ma è simpatico forse papà sarà venuto qui a consumare sì che è venuto qui per Vanessa certo è anche per me eh aveva forse preso qualcosina anche per te durante quel giorno? sì andiamo a vedere il reparto piscina dov'è ok? vediamo vediamo il cestino no no che sì e perché non va hai capottato il cestino eh prenderlo te eh 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 amore hai trovato i costumi brava girati di qua qua ci sono gli occhialini ma li abbiamo già adesso andiamo a cercare allora il costumino per te ma questa è la per te guarda ma mi ha messo per me eh mamma mia che brutto e guarda e non mi piacciono hai trovato una cuffia però secondo me questa cuffia è gigante per te prova a togliere ricordati che avrai la coda pensi che possa andar bene? sì adesso mi dici dove l'hai trovata e cerchiamo quella confezionata se c'è ah no sono proprio sciolte ah ok allora dai scegliamo il colore che colore la vuoi? blu? fucsia? non ti piace azzurra? no perché forse se no non mi piace forse va bene faccio un ballo come i morti sì va bene guardate anche qui sai cosa ci serve? visto che siamo qua mi serve anche per Vanessa il tappetino da mettere sotto i piedini quando esci dall'acqua e ti asciughi ok? quindi cerchiamo anche quello e dimmelo ah guarda forse sono qua no no questo è per nuotare questi eccoli trovati prendiamone uno a te e uno a lavane e tutti e due fucsia? sì va bene questi hanno gli accappatoi Ani lo zainetto lo zainetto come vane? vieni no non mi piace come non ti piace? invece è bello non è da maschio è da maschio ma Vanessa ce l'ha così eh è questo qui quello della vane è questo quello di vane eh è è grande è abbastanza anche per metterci dentro tutto va bene adesso vediamo però no le ho preso già la borsetta no quella borsetta non va bene perché non trattiene l'acqua no io la prendo basso allora ti piace di più la borsa? preferisci la borsa anziché lo zaino anche perché questo zaino è uguale a quello di vane poi lo confondiamo sì ok prendi la borsa questo invece è uno zainetto no è troppo piccino non mi piace questo mi piace va bene? sì speriamo che vada bene che ci sia tutto ok? no mamma adesso però mi manca ma la cuffia c'è adesso? non la vedo? sì amore ci sarà vediamo è lì sì allora però adesso c'è della cappatoia i costumi certo andiamo eccoli quelle piccoline andiamo a vedere guarda le abbiamo trovate viola saranno mica queste quelle che ha Giulia forse non lo so però ascolta non mi piace che ha l'elastico dietro? ma sì ma no poi sei capace a toglierlo da sola? sì 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 vediamo allora vediamo il numero ma le occhiavate vediamo se ti vanno intanto vediamo se sono giuste piccine forse sono leggermente più ma no fammi vedere girati vedete così che dici? sì ti piacciono? sì magari prendi la calza per provarle eh? no no va bene così? sì ok allora quale preferisci? questo qui? sì sì dorso a Y va bene guardiamo le taglie non ti piace questo qua con l'uccellino? no? e anche questo qua mi piace tanto anche questo guarda che bello ok questo qui con le stelline va bene allora Ani ricapitolando abbiamo preso tutto abbiamo scelto per l'accappatoio non in microfibra ma spugna, cotone e i costumini andiamo a provare i costumini? eh? dai brava il mio numero preferito sì sì puoi entrare tira amore ok ok andiamo a provare dai andiamo a provare il costumino abbiamo scelto cotone però lo facciamo vedere quando quando ci cambi a casa quando ti cambierai per andare in piscina vero? sì quando andiamo in piscina ho il costumino addosso ancora non lo sapete esatto sei tutta spettinata ma te l'ho detto adesso ti pettino bene no guardate io me li posso mettere da sola ah sì? vediamo eh ma questo qui doveva andare di qua vabbè fa niente mettilo di là ma sei stata bravissima va bene adesso andiamo a casa eh? mi posso mettere anche le cappine eh va bene ci vediamo dopo a casa ok? il luminato qual'è? di quello l'omino si chiama omino l'omino qual'è? quello del costume che abbiamo scelto secondo me è questo no mamma ecco ho detto io ho detto la mia opinione no io ho detto l'uno ok allora scriveteci nei commenti se l'omino è questo o questo qui con la parte in metallo a casa vi dico qual'è? ok ok dai va bene ah ci hai già svelato l'arcano perché è piccolino sì adesso Ani però vestiti perché io ho caldo dai in verità non era quello lì perché era questo era già qui dentro eh sì l'avevo già messo io guardare i numeri uno due tre quattro cinque sette otto nove dieci quindi quanti? undici ah dodici no nove undici e dieci ma sono messi al contrario allora mamma mi allena un pochino mettiamola qui non puoi salire vieni qui sì non puoi non sei a casa tua eh noi li abbiamo a casa questi attrezzi se vuoi puoi farli questo Anastasia e non è un gioco brrrrrrr ieri è fuori da lì dai mi allena un pochino ecco questo è bello dai faccio questo poi questo si qua dormi questo e poi uno solo e vai andiamo non muovi neanche ti spezzi da mano ecco questo è magari un pochino più adatto fa male? andiamo a casa? sì stai ballando? credi di essere in discoteca? sì vediamo chi vinci a pagare dai vinci tu a pagare allora così paghi te andiamo dai sei matta sei matta amici noi siamo ritorno a casa e poi dopo vi metto il cotube perché va di piscina e andiamo a prendere Vanessa dopo ciao! amore siamo a casa già da un po' guarda dopo ho fatto la piscina piccola e la piscina grande lei sono io ho fatto i codicini e me la mia scritta le cose quelle lì dove ti tiene a galla non ti avevo ancora detto le giuglie bene le sono io e questo disegno sarà per Giulia ma perché tra poche ore ma veramente poche finalmente andremo in piscina amore se lei non mi regala niente gli dico ma perché non mi regala niente? mi fai morire io gli dico allora questo è mio se non mi regala niente ma si fanno i regali per ricevere un regalo perché invece gli regalo questo che è suo o la sua faccia ma io lo so che tu stai scherzando vero? no come no? mi faccio no mi fai ridere troppo ali allora adesso la mamma finisce di lavorare e poi ci mettiamo il costumino e andiamo a prendere l'avane ok? si ciao ciao un attimo mamma adesso lo rifaccio un altro di fatto che Giulia ho lì bene qui dietro ah gliele fai un altro? lo faccio qui dietro perché qua ho fatto la mia faccia qui dietro eh beh è giusto gli dici questa sono io no 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 allora mi fai vedere dopo il disegno nuovo? si ciao ciao ho finito guarda lei sono io e lei Giulia bene quattro qui sono dove ci tenevo dalla i galleggianti e quattro qui la piscina piccola e quattro quella grande e adesso lo sto ritagliando benissimo e allora e questo qui invece è il mio lo tieni tu? si per ricordo lei sono io e lei è Giulia e lei si ce l'hai già detto prima va bene tesoro a dopo ciao con la prova costume bene puoi andare a mettere il costume vai 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 carico 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 che mi spingi? guarda cosa vuoi da me? guarda che io ti ammascio ne? anche io ti ammascio eh anche ti ammascio sei capace da sola? no e allora? no? mi hai appena crustata e io non ti premierò che cadi dalle scale arrivo vieni perci vedere il costume check wow Ani quanto sei bella ho dato anche un neo hai un altro neo? bene poi hai lo smalto sei bellissima è bellissimo con l'uccellino azzurro sei contenta? si sei già pronta per muotare? ti vedo carica uuuu dai Ani che ci siamo veramente veramente quasi manca pochissimo andiamo a prendere pane ciao ciao amore ma quanto tempo siamo arrivati prima qua ci siamo solo noi dov'è la Giulie? lei è arrivata un po' chi c'è qua che ti aiuta? la tua sorellina come ci si sente essere dall'altra parte Vanessa? emozionante? vediamo un po' che bellina siamo tornate a casa? eh? com'è andata? in piscina? bene tutto bene eh? non sto pensando ok io Giulia bene bene prenderamo un guffiabile lo metteramo nell'acqua e dopo Giulia bene con la testa e poi da cazzo quello lì che ci aiutava a fare il tuo istruttore eh ecco anche quello di Vanessa lo prendeva a gioiare bene in braccia e io li devo così un sacco ti sei divertita eh? è stato il primo giorno hai dovuto capire un po' cosa dovevi fare eh? ci sono stati attimi in cui magari non volevi anche più entrare in acqua ma da martedì prossimo andrà sicuramente meglio ok? sei stanca? adesso è affamata vero? ti stai mangiando il tuo yogurt e la banana adesso andiamo a fare la nanna tra poco va bene? ma guardiamo un film guardiamo un film e poi andiamo a fare la nanna un cocco il yogurt e la banana si ragazzi se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanella ciao con le mani tutte e poche ah vi lasciate un bel pollicione su ciao con le mani tutte e poche ghiaggiate e poche l'ho già detto e bagnate e ghiacciate ci vediamo nel prossimo video che va di piscina eh così vado qui qui e qui è vero? ciao ehi